...guidati da Antonio Manicone, quattro presenze e due gol con l'Under-16 allenata da Antonio Rocca. Dopo l'estate 2007 sale di un'annata e passa pertanto all'Under-17 di Luca Gotti, oggi tecnico del Treviso, con cui colleziona 13 gettoni e due gol fino al marzo 2008, mentre in maglia nera-azzura vive la stagione fra allievi nazionali, quelli allenati da Daniele... ...sull pallone, vediamo, parte la traiettoria, c'è il tiro e c'è il gol del 6-11. 0-0, realizzato mi sembra da Santon, vediamo se riusciamo a rivedere bene a distanza. Eh sì, è proprio, si tratta del numero 8 Santon, ma qua va lo stesso concetto. Palla recuperata poi da un buon intervento con Santon che scambia con Danielello in trenare a Santon e solo. E' bravo, è bravo perché riesce a guardare il portiere prima di calciare e quindi lo beffa con un colpo sul palo opposto. Rivediamo l'azione dell'agnello, mette un buon pallone a Santon che è in trenare, vedete che guarda il portiere e poi lo piazza, lo spiazza.